Il mondo del calcio negli ultimi anni è stato spesso sull'orlo davvero della poca credibilità, ma insomma quello che è accaduto ultimamente supera ogni limite perché si tratta di più di 40 partite che sono sotto inchiesta dei magistrati, 36 le società che sono coinvolte a vario titolo, 8 società per responsabilità diretta, quindi come ben sappiamo la responsabilità diretta presuppone il rischio, porta al rischio della retrocessione, oltre 100 deferimenti in arrivo per illecito sportivo, associazione finalizzata all'illecito e divieto di scommesse. Sono questi alcuni numeri, dobbiamo dire, davvero impressionanti della valanca che sta per abbattersi sulle società e sui tesserati tirati in ballo dalle indagini di Catanzaro e di Catania. A tutte queste società ieri la Procura federale ha inviato la notifica della chiusura delle immagini, quindi ci manca davvero poco ai deferimenti, che saranno sicuramente tanti, o alle archiviazioni che dovrebbero essere poche, cose che dovrebbero avvenire la prossima settimana. Dopo la riduzione dei tempi per le difese disposte da Tavecchio, gli indagati avranno a disposizione praticamente soltanto tre giorni, sabato, lunedì e martedì, per farsi ascoltare dal Procuratore federale Stefano Palazzi e dai suoi collaboratori, o per inviare una memoria difensiva. Subito dopo, più o meno a metà della prossima settimana, la Procura federale dovrebbe emettere i provvedimenti. Se la tabella di marcia sarà rispettata, il processo di primo grado, Tribunale federale, dovrebbe svolgersi entro ferragosto, mentre il secondo grado, la Corte d'Appello, prima di settembre. Dicevamo, le inchieste sono sostanzialmente due, quella di Catanzaro e quella di Catania. Per quel che riguarda l'inchiesta di Catanzaro è sicuramente la più corposa. Palazzi, il Procuratore e i suoi assistenti hanno indagato su 31 partite e alla fine le società coinvolte solo in questa indagine sono 32. Alcune società con contestazioni gravissime, a Vigor Lamezia, Torres, Barletta, che nel frattempo non si è nemmeno iscritto, Catanzaro e Brindisi, la Procura addebita la responsabilità diretta. Nel caso della Vigor Lamezia, la responsabilità diretta è addirittura raddoppiata, quindi le responsabilità dirette sono addirittura due. L'Aquila ha il curioso record delle contestazioni, 22, ben 22, di cui 20 per responsabilità oggettiva, mentre l'altro filone, sempre della Procura di Catanzaro, è più snello, ma non meno eclatante. Infatti il Procuratore contesta non solo al Teramo, così come era ampiamente previsto, ma anche al Savona, la responsabilità diretta. E nell'inchiesta compaiono nuovamente l'Aquila e Barletta. C'è poi l'inchiesta di Catania, che coinvolge il Presidente del Catania, l'ex Presidente Antonino Pulvirenti, l'ex addetto alle relazioni Pablo Cosentino, l'ex direttore sportivo Daniele Dellicarri, il procuratore di origine molisana Fernando Arbotti e il dirigente Piero Di Luzio, oltre a Gianluca Impellizzeri, colui che secondo l'accusa finanziava l'acquisto dei giocatori corrotti, recuperando il denaro dalle scommesse sicure. Qui, in questo filone di Catania, le partite per cui viene chiesta la responsabilità diretta a carico del Catania sono quelle contro Avellino, Parese-Trapani, Latina, Ternana e Livorno. Poi esistono anche delle inchieste contro tanti giocatori di queste sei squadre indagati a Catania, ma bisogna anche precisare che le combine sono avvenute con il concorso di persone non identificate o per le quali sono ancora in corso accertamenti penali, quindi altri tesserati potrebbero finire nel Calderone. Non si parla in questa inchiesta di Catania di Brescia-Catania, per la quale si ipotizzava un tentativo di combine se venisse esclusa dai deferimenti, questa partita il Brescia potrebbe tirare un bel sospiro di sollievo e sperare nel ripescaggio in Serie B e quindi gli si aprirebbe la porta del ripescaggio in Serie B. Quindi, riassumento, Catania, Teramo ed altri sei club praticamente potrebbero essere retrocessi per responsabilità diretta e quindi il mondo della Lega Pro avrebbe uno scossone, sarebbe ampiamente ridimensionato nel numero. Circostanza che potrebbe anche portare a una riduzione delle squadre per i campionati di Lega Pro dell'anno prossimo, perché, come abbiamo detto più volte, lo sbarramento del mezzo milione di euro chiesto per ottenere il ripescaggio in Lega Pro è davvero eccessivo. Finora soltanto tre squadre hanno attivato la procedura di ripescaggio e quindi i campionati potrebbero essere davvero stravolti. Noi ribadiamo che non siamo d'accordo su questa tassa a fondo perduto di 500 mila euro e ribadiamo anche che, a nostro avviso, la società del Campobasso ha fatto molto bene a non prendere in esame questa strada di ripescaggio perché, evidentemente, sottoporsi ad un salasso del genere avrebbe significato mettere davvero a repentaglio anche le casse societarie. Per cui, evidentemente, si andrà con grandissima probabilità nel prossimo campionato ad un numero di squadre di Lega Pro decisamente ridotto rispetto al recente passato.